Mamma, aiut nolli! Fai il tunnel! Grazie. 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 È una Barbie della Canon. È la Canon. Sì, sì, ma c'è la Canon. Ecco, ho preso quella nuova. Non posso usarla perché non posso usarla. La uso, ma non ho il programma dato, perché con la vecchia, la 26 qua, c'è il Vido Bronzeware che trasforma, faccio il disco quello che vuoi. Ah. Comunque la nuova. Vi ci hai mai dato un transfer, un utility come che è scaricato da internet? Esatto. Io tolgo la memoria, l'hanno tolto. Ma dopo per tagliare, per comprimere quelle cose lì? Eh, c'è. Filmo ora. Ok, ora sto vivo andando. Sì? Vamo! 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 Vamo n'impe! Vamo! Guardate qua, guardate. Vemonimo n'impe! Vemoke e tre y endare. Vedremo ecco l' искre enzio e vedo la casa. C'è muovè! Vamo! E vada nel quatt Pv Nerd. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto il mio collega. Benissimo. Guarda Pico, attaccati. Un saluto il mio collega. 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 Mettiamoci. un saluto il mio collega. 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 il saluto il mio collega. un 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 saluto il mio collega. subito Alex. Tai欸. uno dei dei passi che si incontriamo. Sì, sì! Forse i campi allungati, eh? Eh, eh, eh! Guarda che ho vinto! Sì, guarda che ho vinto! Guarda che ho vinto! Che vuoi! Eh? Vai, vai! Uno! 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 Il campo è piccolo! Ho capito che il campo è piccolo! Ma sono andato a passare! Io la fanno neanche io! No, no, ma farei posto! No, no, no! No, no, no! Vienco! 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 Un campo! Uno che taglia! Uno che taglia! Il metro! Uno è solo! Dai dai dai! che è che ti sono tirando? Mazzaro Mazzaro, vai su Valerlo? No Io vado a giudarmi Io vado a giudarmi Vedi? No, non vi Allora, magari un po' Una corda Qu'è da un darato per un barbell cuir Mi ha chocato Io Pico che che è grosso Perchè lara Perchè laetra è fiume Trasci Que no! Vero sospiro Vero sospiro Lo scambio, raga! Lo scambio! Porni, bivarti! Prendire uno! Porni, prendire uno! Porni! Porni! Sali, sali! Prendiamo, raga! Arbitro! È vano, eh! È vano, eh! È vano, eh! Basta, capitale! Basta! Basta! Venga, giochiamo! Salmo, salmo! Dentro campo! Dentro campo! Sì, sì, sì! Se non sali i tranni, scordi! Eh, non è dietro! Eh, ma anche per l'azione, no! Anche per l'azione, c'è 25 invece! Ah, dai, davvero! Eh, ci hanno fatto... Arreda nuovo questi... Parlo, dicci seriamente! Non è che scherzavano! Sì, sì! Ma un rigore è netto! Ma anche per l'azione, mi ha dato un rigore e l'avevo visto bene! Oh! 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 Vieni la parte! Vieni da a fondo! Vai, cocca! Vieni la parte! Uh! Ok! So! Prego! Ok! No c'è noi! Sì, sì, lo riclapparavamo dei mobili, mobili d'ificio. Stava detto che ne trovavamo anche contestazioni, c'era giù tutto Cisano, tutto Dicione. Ma aiuto. Ha sbagliato indicare perché ha indicato lì. Ha sbagliato indicare. Non si giocava, un botto al bar. Niente, il parcheggio. Fuori, fuori, fuori. Vieni! 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 non ci gira, non ci gira vieni, vieni cerconi, cerconi, vieni 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 non vedi bene così, con questo questo indietro e questo avanti devi cercare poi questo è un altro non si gira ma chiudono non zoomare non si vede vieni 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 testare è vieni 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 è strani perché come è successo a me è successo in prima categoria è successo in prima categoria è sano è però ho detto quando ho fatto questo io vado qui ho detto quando ho fatto questo io non ho parlato è difficile anche il giudicaro capito è difficile è difficile è difficile è difficile No, un assursista è diventato un po' di più. Ma cosa è che il객... Un po' di più! Sì, gonfetto! Inizia il peso! Inizia la fusi la camera... ...la campagna... ...la corrent... ...la gara... ...e... ...begata per le nazi. Un ero fotoletico anche quando si tratta di un'acqua. ...l'arri fa quella che si tratta di un po' di più. E poi un'altra cosa, un'avvento che ha dato 4 minuti e dopo il terzo fiscale, che è bene, bravo, 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 bravo. E' erano lì, gli altri pilloni, la roba tutta la settimana, gli hanno mandato anche parole, se te, se te. L'hai letto? Perché? No, non lo hai detto. Non lo so, Andrea, non te lo ha scritto così. Ah, non lo so, chiaro. Perché ti l'ho scritto? Qualcosa, me lo hai sbagliato, ma non ci avevo, perché sono andato così. No, 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 no. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Ma ora è un prossimo senza i due gemelli del... ...seguramente lo sveglia... ...seguramente lo sveglia... ...seguramente lo sveglia... ...fuori... Fuori... ...fuori... ...ma sta fettando bene anche il dio... ...sì...sì veramente... ...quasi sempre com'era domenica... ...ha già niente da fare... ...bello! ...bello! ...bello Sino! ...grande! ...callo libero così... ...eh... ...bravo Bomba! ...va... ...ma te l'ho fatta segnare sul vigore... ...va te lo sveglia... ...ha visto? ...ha... 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 ...dove? ...un giro... ...ha... ...ma solo te o un matrimonio? ...e? ...o tutta la... ...quando mi sposerò chiamalo te lo... ...sì dai... ...ha... ...però fra vent'anni... ...sì sì lo so... ...fra vent'anni c'ha più c'è una brasiliera... ...una brasiliera... ...ha... ...ha... ...va... ...va vent'anni c'ha più c'è una brasiliera... ...sì... ...va giù... ...al Maracanà... ...ha... ...ti chiamo eh... ...sì sì... ...che canzoni canti? ...qualsiasi... ...battisti? ...anche... ...sì... ...strafa... ...fra... ...peggolo Bianco... ...auf! ...uuf! ...sì... ...lo strafa... ...vergo? ...uuf! ...e... ...quanto sono? ...due o tre a zero? ...due... ...tre a zero... ...tre a zero... ...futra uf... ...futra uf... ...futra uf... ...e un po' più o... ...e un po' più o... ...fai così... ...così non c'è la porta... Caccia, 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 caccia. Caccia, caccia, caccia. Caccia, caccia. Caccia, caccia. Caccia, caccia, caccia. ha venuto la palla a terra dubbio dubbio la parola 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 il 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 10 minuti 10 minuti 10 minuti Lascia Voi mettere giusto Rombo Rombo Il secondo è che la Val Soldese Viene sulla Val Soldese Con noi La Val? La Val Soldese La Val Soldese Ma dai E dov'è che sono? Val Solda La Val Soldese Sì Sopra Porletta Ah Orca Usprega Arriva Sì Sì Vai Trappani Vieni 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 Grazie a tutti. Un po' di 30 e un 60, vero? Sì, sì, sono quelli. Un po' di 30 e un 60. Un po' di 30 e un 60. Un po' di 30. 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 Non caglio, non cagliore! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.